amici di or pokemon collection ben ritrovati siamo qui con un mega pacchettone che avete visto forse anche sulla pagina instagram e ci andiamo ad aprire insieme questa è una gran bella collezione di un amico che voleva toglierla buon indenditore non è costata poco non è costata poco c'è stata anche una bella e lunga trattativa qui ci ha tirato fuori qui c'è tutto l'album un bell'ottone di carte vecchie poi qua ci saranno le comuni e non comuni abbiamo due etb questo è per fare un po di spazio un po di spessore ci sono delle tutte accartocciate facciamo così mettiamo addirittura ha mandato tutto l'albumino qui non lo so come ve lo faccio vedere qua in video anche un gran bell'album l'album allora facciamo così ma niente che prendiamo il tappetino da questa parte sfidiamo l'album bell'album professionale dox magic con cerniera dox magic tedesco con cerniera ci apriamo qua forse ci sono come vi ho detto avrebbe mandato anche un altro lotto stati protetti in questi etb vediamo cosa c'è vabbè c'è brutta il dragon shield mi ha mandato anche tutta la roba che non vuole utilizzare più anche un beltro sarà non lo so se lui suona però non lo so ci sono ecco dentro un po di slips e top loader random che sono sempre utili codicino destino splendente il regalo per voi vabbè qui tutti cos'è destino splendente queste sono un po di carte nuove ci sono anche delle olo lì dentro anche bei codicini ci mettiamo qua da parte di là il grosso è tutto old il grosso questo ci sono più carte si sente già dal rumore mi raccomando un commentino per chi riscatta il codicino oh che belle le sleeves delle etb del signor splendente questo non l'ho aperto quindi non l'avevo neanche qua già sono old vabbè aveva fatto vedere che aveva un bel lotto di comuni e non comuni old sfogliamo veloce veloce verrai di che ti prima edizione cambiano le prime edizioni ce le mettiamo da parte insieme alle altre eccole qua pikachu perché non esce un bel pikachu in prima edizione questo ce lo teniamo come ricordo un bel pikachu jungle in prima edizione più che gradito psyduck ovanite in prima edizione bello orsi in prima edizione ve ne vedo altre altre quattro prime edizioni sidra cloyster selesh e kingler fossil sempre il più gettonato in prima edizione marbock slow pock in prima edizione o come sta bene su burbasauro nuovi nuovi giro molto veloce giro molto veloce così andiamo al sodo vediamo qua che altro ci sta ah queste sono gym e ottime gym anche le comune non comuni costano al momento ci sfogliamo sempre veloce si può vado a controllare anche se qualcosa mi manca oh belle le gym challenge qua ci sono due rare da set base non in ottimissime condizioni oh altre gym mamma che bello sempre un piacere vederle tutte quelle in prima edizione near wind si mandano a gradare anche le comune non comuni ormai oh queste non le avevo proprio viste fra le carte che doveva mandarmi ma molto 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 gradite anche perché ci sono dagli artwork veramente pazzeschi belle belle e qua queste sono oggi sono neo neo destini sono tutte neo destini ok bello sguardino veloce andiamo sistemiamo un momento poi questa sera andiamo a mettere a posto abbiamo anche un po' di sleeves uno per qua perfetto addirittura una detta avrebbe mandato l'album così è stato persona di parola l'unico modo per farvelo vedere è questo scusatemi se smuovo la telecamera altrimenti non riesco a sfogliare nulla e apriamo mi siamo forte con la prima pagina mi siamo molto forte oh addirittura ad anelli eh iniziamo con bel sabrina salakazam eh questo tizio sa le sleeves queste sleeves che si diranno così belle le vediamo ci divertiamo le vediamo un po' tutte le carte ci rigiriamo il modo che carico il video e anche magari a chi deve acquistare link su youtube e se ne guarda tutte quante fronte e retro bello coca sditto mamma che magia questo lotto lotto magic litter surge olografico bello un po' di bianco ecco qua merica sclefebo sul fronte tutte precise belle olografico olo pulitissime qualcuna pecca sul becco bello venosauro promo bello anche sul becco tutte messe nella sleeve con la linguetta cavolo le dragon shield dark blast toys bello questo un po' di bianco questo è good poi qua abbiamo questo sapevo che comunque era un pochino rovinato era stato considerato qua su qua giù eppure nel back portava un po' di bianco eccolo qua ma una carta super bella super ricercata piccola piccole pressioni qua abbiamo venduto la pur si è venduta a 35 euro bello l'artwork di coca sbidril e come faccio per non spoilerare tutto non si può non si può con l'albumone e allora mi lascio a questa splendida visione qui abbiamo uno dei miei artwork preferiti blins mortres mortres bello mamma mia che bombe bombe assurde ragazzi sono delle bombe assurde queste sono le paginette anche come alle mie sono perfette ericas venosaur bello guardate che oro amici qualche graffietto io me le giro tutte mi voglio divertire mi voglio divertire e me le giro tutte portarlo più lontano ce l'ho abbastanza vicino spero di non disturbare con l'audio me le giro tutte così a chi vuole comprare questo si mi ricordavo c'era questo mi sembra anche il geridos c'avevano delle piegazze bruttine belle brutte questo è pur peccato peccato non ne ricordavo rocket mortres questa è la sleeves si è la sleeves che ha che ha difetto si nella sleeves guardate le oro un grande collezionista questa che sto ragazzo che me le ha vendute quindi sul front intelligente perché mi doveva collezionare da album purtroppo molti si sono fatti influenzare dalle tante di ceriglie vabbè queste poi sono cose a parte che non ci interessa ecco qua scusatemi qua abbiamo un altro artwork pazzesco e anche quello che viene dopo siamo sull'excellent pieno pieno molte carte di quelle che abbiamo visto e bomba che bomba questa amici sabrina schengar questo è un good non pieno pieno eccolo qua questo è un altro artwork abbastanza sottovalutato ma a me piace tantissimo questa pure è una bellissima carta mistis gold mistis tentacru mistis sidra mi sa che sono forse tentacru le sidra sono le bruttissime playhead che sono le gym più più economiche non sottovalutate ma economiche questa pura eccola qua c'aveva una greens bella greens mamma questa pure playhead se non burla eccole qua questo è un artwork questa è una carta che è salita tantissimo l'inter sorgifilo è stata molto sottovalutata per un sacco di tempo ma ci si è accorti dopo che hanno un artwork bello bello questa è un'altra mi ricordavo che aveva dei difettucci questa è anche playhead però questa è un artwork amici mamma mia che artwork questa carta poi 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 bellissimo l'inter sorgirai questa pure una bella bomba piace in particolare a me questa carta perché c'ha il pikachu jungle come pokemon di fase 1 c'è proprio l'artwork del pikachu jungle è bellissima questa pure l'inter sorgirai magneto spettacolare qua abbiamo un altro l'inter sorgirai giriamo giriamo che abbiamo qua poi eh ho spoilerato forte ho spoilerato forte questa pure la la ricordavo giovanni snidoghi questa pure è salita tantissimo che bella questa amici c'è un puntino qua giù uno qua e uno qua questa è proprio near mind piena piena chissà che questa quasi quasi non se ne vola se c'è qualcosa da volare a parte pulita pulita l'olo qualche graffietto qua ma veramente minimo questa forse forse se ne vola assieme a quelle che avete visto dello scorso video che vi invito a recuperare dell'altro lottone arrivato qua giovanni smaciam questo ha sempre detto la sua questa carta molto 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 bella e qua amici siamo arrivati al blastoise set base in italiano unlimited un po' di bianco qua e un po' di bianco qua ma veramente veramente bellissima carta qui abbiamo venosaur si ricordavo che era un po' più rovinato presenta del silver rig pure nel becker si molto più rovinato rispetto a blastoise che è veramente veramente eccezionale e qua abbiamo un laprass olografico contando di swirl è bello una leggenda dello swirl che aumenta il valore non è vero amici non è vero polibrat anche questo bello uno sbirlino qua bellissimo si è ficcato in una perfetta laterale e questa non ce l'ha proprio la sleeve abbastanza rovinata playet dandola ficchiamo qua poi qua questi sono semplici comuni che erano affiancate c'era blastoise qua venosoro qua poi c'era la triade ma lì non abbiamo contrattato queste sono delle comuni un po' di set set gym bello questo è un artwork che mi piace tantissimo mistis magica questo pure abbiamo visto registrati già i video della sistemazione set ma non li ho ancora pubblicati poi che altro c'era bell'articuno promo bello c'era qualcos'altro e qua abbiamo delle carte nuove degli etb i quali il nostro amico ci ha mandato le carte in particolare abbiamo anche questo bell' eternatus v gold queste ovviamente credo saranno near mid appena sbustate si li ficchiamo qua dentro andiamo a vedere palinks v ultra shiny tox city v ultra shiny tox city v max ultra shiny glim snarl v max ultra shiny candy stork v max ultra shine abbiamo delle baby shining ci verifichiamo tutte belle in album non so se c'è altro dietro non ricordo mi sembra di no non dovrebbe esserci più nulla ah vabbè delle sleeves dimostrative tra bevi shiny vabbè due ivi degli etb ancora silet ma piegati ormai e queste pagine sono vode e vabbè vi lascio con le due pagine più dimostrative diciamo amici di or pokemon collection se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like se vi va e di iscrivervi al canale ringrazio a tutti per la visione e vi invito a passare anche sulle pagine in descrizione soprattutto di instagram e tiktok e grazie a tutti dell'attenzione a